Mi devi fare una faccia più... vedi, questa è la recitazione, grazie, sembra che... No, tu devi essere più... adesso te lo rifaccio, tu fammela a me, fammela a me, dice 50 anni, dimmela a me, vi faccio vedere come avrebbe dovuto fare, dimmi qualsiasi cosa, dimmi complimenti, dimmi complimenti, ecco, però guarda 50 anni insomma... Dammi la mano, dammi la mano, tu avresti dovuto fare, grazie, cioè più discreto, più... Ho capito, perché così almeno è meno studiato, non avranno detto, cazzo, tu qui c'è 5... Invece così abbiamo capito che... Questa è la recitazione, cioè trovare la chiave per far sì che quello che dici o che proponi venga comunque creduto, perché tu perché l'hai fatta male sta qui, perché in realtà... Perché so che non è vero! No, ecco, esatto, invece l'attore è quello che entra nel suo personaggio e deve credere in quello che fa, hai capito? È quello che fa...